ciao a tutte ben ritrovate sul mio canale subitissimo partiamo con il primer viso questo di lancome la base pro lo ha già steso adesso passo subito il fondo tinta il dior backstage nella tonalità 2n lo stendo con il pennello di dior lingua di gatto quindi faccio subito diciamo un primo una prima stesura con questo pennello poi dopodiché passo ad utilizzare la spugnetta la beauty blender azzurra così da togliere l'eccesso di prodotto ogni tanto mi vedrete parlare sto rispondendo a giuseppe infatti in questo momento diciamo ci stiamo preparando per per la nostra mattinata lui ovviamente va a scuola io vado a lavorare quindi ecco passo appunto la spugnetta la beauty blender azzurra che morbidissima è fantastica io l'adoro tantissimo adesso passo al correttore il dior skin forever undercover io ce l'ho nella tonalità 022 quindi l'applico appunto nella zona un po più scura anche nelle palpebre a modi primer quindi per far durare di più l'ombretto mi fa anche mi va anche a schiarire la palpebra e a correggere le discromie vado a prendere questo pennello di zoeva che è fantastico per questa zona quindi appunto lo stendo si asciuga abbastanza in fretta non va nelle pieghette ed è fantastico io lo sto adorando un prodotto che mi piace davvero tantissimo e dura tutto il giorno io questo questo makeup lo utilizzo quando voglio qualcosa che mi duri tutto il giorno oggi mi serviva essere perfetta anche per la sera quindi ho fatto un trucco appunto abbastanza completo quindi tolgo l'eccesso con la beauty blender e dopodiché passo all'altro prodotto che è la penna diciamo illuminante di dior la flash luminizer nella tonalità 002 quindi appunto vado a metterla in questa zona e nei punti che voglio illuminare centro del viso e poi vado con la mia beauty blender quindi vi dicevo voglio un trucco che mi duri da mattina a sera senza senza andare a ritoccarlo ogni tanto guardo l'orologio perché ho giusto quei dieci minuti barra un quarto d'ora per prepararmi e quindi in questo modo ho fatto tutte le correzioni adesso passo appunto alla cipria questa di douglas in polvere libera trasparente che mi piace tantissimo e mi garantisce una tenuta per per tutto il giorno quindi vado ad applicarne in quantità un po generosa su sulle zone appunto del contorno occhi fisso anche il appunto il correttore nelle palpebre e poi passo ad un pennello prendo un pennello un po più ampio e distribuisco il prodotto in tutto il viso così in questo modo voilà poi passo alla palette di smashbox questa palette completa per il viso vado a utilizzare praticamente tutte le cialde e quindi prendo innanzitutto la prima cialda per fare con touring così assottigliamo un pochino diamo un po di dimensione al viso ogni tanto divento bianca ma la luce non è delle migliori di primo mattino vado a prendere la cialda un po più calda e scaldo un po l'incarnato con questo pennello di neve cosmetics come vedete rispetto ai video diciamo di di makeup questo è un po più accelerato perché la mattina diciamoci la verità abbiamo davvero poco tempo passo al blush questa cialda un po che da subito un effetto salute colorito sano ecco questa palette è fantastica se la trovate prendetela perché davvero ottima di ottima qualità passo all'illuminante quindi la cialda centrale un pizzico di illuminante serve sempre la mattina ecco qua e adesso momento tragico per me le sopracciglia noiosissimo perché mi fa perdere un sacco di tempo ci metto sempre un pochino ogni tanto ecco un pelucchio che mi dà fastidio trovato eccolo la ogni tanto devo vedete passare giuseppe che va a prepararsi avanti indietro invece gabriele è già pronto ed è giù che guarda i cartoni intanto che aspetta appunto che io finisca tutto molto cronometrato la lavatrice sta andando insomma non so voi ma io ho tutto ben incastrato la mattina ho sempre i minuti contati quindi cerco di come dire ottimizzare un po tutti i tempi non sempre riesco a truccarmi mesco anche senza trucco perché a volte non ho neanche voglia ci sono quelle giornate in cui proprio non mi va ecco per cui se ho tempo lo faccio se no non succede niente ecco anzi la pelle ringrazia perché così respira un pochino ecco passo all'altro occhio sto utilizzando se non sbaglio il pennello di Diego Dallapalma ottimo io adoro questi pennelli così doppi e se non sbaglio questa è la tonalità Neptune di Nabla perfetta per il mio colore di sopracciglia anzi lo devo anche ricomprare perché si è effettivamente un po' seccato ma ce l'ho davvero da tanto quindi insomma ha fatto anche il suo il suo corso ecco adesso do un po' la forma che mi che mi fa diciamo che mi sta meglio ma la mattina credetemi che qualche errorino ci sta eh perché infatti non sono mai tanto convinta come adesso ma va bene lo stesso adesso le fisso con il gel di Anastasia Beverly Hills questo gel trasparente me lo tiene ferme 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 e adesso do un un settaggio a questo questa base quindi sto usando questo prodotto nuovissimo di Lancome con il quale mi trovo molto molto bene è una bella sventolata per asciugare ci vuole sempre adesso vado a fare un leggero make up con questa palette di MAC con la quale mi trovo benissimo questi ombretti sono burro setosissimi e faccio veramente un trucco semplicissimo ma proprio basic quindi un marroncino sulla piega e un colore luminoso ecco in questo caso sto prendendo il marroncino dalla palette di smashbox perché mi serviva qualcosa di chiaro nella palette non c'era quindi va benissimo anche se utilizzo appunto questo marroncino dalla palette di smashbox quindi lo utilizzo qui nella piega dell'occhio con questo pennello ampio di zoeva poi vado a prendere appunto un colore panna per illuminare l'arcata e dopodiché ripasso nuovamente il barroncino per evitare di avere stacchi naturalmente mi preparo tutto dalla sera prima quando so che appunto mi voglio truccare mi organizzo in questo modo a fine video trovate appunto la mia organizzazione questa questo organi un organizzatore diciamo di di makeup quindi è una una scatola diciamo con dei divisori preso all'ikea e li metto tutti i prodotti appunto che che mi servono poi per il trucco del giorno dopo ed è un ottimo sistema perché non perdo tempo a cercare i prodotti quindi ho tutto davanti compresi i pennelli tutto quello che mi serve adesso ho messo marroncino un po più scuro nell'angolo esterno e lo metto anche con un pennello a penna anche sotto sotto nell'arima inferiore esterna poi vado a prendere un colore luminoso con con le dita questo mi darà subito diciamo luce fantastico con le dita poi si fonde benissimo con la palpebra quindi trovo che sia il metodo migliore ovviamente mi pulisco perché poi rischio di fare danni e di sporcare il resto vado a riprendere nuovamente il marroncino lo metto anche un po sulla piega mi vado a diciamo terminare il mio trucco occhi come vedete è semplicissimo e quindi il mio orologio ogni tanto che controllo matita marrone questa è di dior waterproof quindi matita marrone che poi andrò a sfumare la metto appunto nella rima superiore nei tre quarti neanche tutta e poi nella rima interna inferiore così in questo modo poi primer di smashbox per le ciglia questo mascara bianco che poi si asciuga mi fa appunto da base dopodiché vado a prendere il mascara questa volta utilizzato uno penso che fosse quello di mesauda se non ricordo adesso l'ho preso talmente in velocità che non ricordo ma mi sembra di riconoscere che sia quello di mesauda un scovolino bello grande e quindi vado appunto ad applicarlo così in maniera molto veloce per le ciglia inferiori non ho dubbi ho preso quello di mac che ha lo scovolino molto piccolo e stretto quindi perfetto per le ciglia inferiori poi un mascara che non non si sgrettola non non lo ritrovo in giro insomma è perfetto e poi vado a prendere appunto questa combo labbra ho preso una matita di 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 chicco e appunto contorno le mie labbra se non sbaglio qui giuseppe che mi chiede mamma la giacchina devo metterla e io vedi tu sei freddo insomma sempre le solite domande di ogni giorno poi ho utilizzato sì questo rossetto di chicco molto molto buono come come tenuta come comfort fantastico e voilà questo è il mio trucco completato riprendo appunto nuovamente la matita per per delineare un pochino meglio e diciamo che sono praticamente a posto vedi tu sempre combattere con giuseppe mille mille domande che mi fa tutti i giorni ecco qua io sono a postissimo capelli già appiastrati dalla dalla mattina subito un bacione grazie per aver visto tutto il video questo è il mio organizzatore con tutti i trucchi già pronti e questo è il risultato finale vi auguro una buona giornata grazie per aver visto tutto il video e vi aspetto al prossimo ciao